Ciao Anna Ciao No Vai Giorno Vai Giorno Vai Giorno Vai Giorno a fare il bellissimo nuovo circuito dell'arco specificato, prima che a passare nei primi punti, un passaggio più trovato. Stai calmo, stai calmo. Nel numero 192 c'è anche la prima ammunizione. Nel primo passaggio a Corriera, numero 40, avrà preso il primo punto, cioè il numero 99. Stiamo al passaggio con la campana, il numero 19, c'è un alunno di Menoni Lugia, preso il numero 19, in generale, la prima ammunità, il numero 19, c'è un alunno di Menoni Lugia, questo è un alunno di Menoni Lugia, preso il numero 30, avrà preso il primo punto, cioè il numero 15, avrà preso il numero 21, c'è un alunno di Menoni Lugia, preso il numero 23, avrà preso il numero il gruppo Aurora e Vidovola dai Viola vediamo il passaggio con i punti nel senso 48 e 42 quindi aiutare la gioccia con i punti brava Vidovola vado vai Lidovolo vai Lidovolo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.